Perettino mia, quest'oggi andremo nell'ascensore più pauroso di tutti Perché? Boh, non lo so, per divertimento, però c'è un sacco di gente che conosciamo, guarda Abbiamo Joker, abbiamo Jason di Venerdì 13, abbiamo Freddy, abbiamo Hit, abbiamo Five Nights at Freddy Abbiamo Granny, abbiamo Hello Neighbor, abbiamo Sonic.ex, abbiamo Slenderman Solo Enigmista, Michael Mayes, Chucky, cioè li conosco tutti, quindi vabbè Quindi andiamo nell'ascensore e alla fine sono tutti i nostri amici, non credo che andrà male, no? No, sono tutti assassini, Steph, per dire le cose bene, sì, sì, è molto creepy, sta Puoi accendere la luce, vieni, 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 vieni Ma sono morta! Perché? Non lo so Beh, c'è qualcuno che ride Te lo sento Io sono sopravvissuto Au Beh, perché io sono stato coraggioso e sono andato, tu invece no Maledetto, ma se io ho appena entrato Non è quella la stanza, ma perché la lascio due secondi e si perde? Cioè, elevetto, raga, così gigante e leggerà ferma in una room Ti sto cercando con la pila, Steph Ti distruggo, ti anniento Io ti distruggo Altro che tutti questi cattivoni che ci sono qua, sono molto Ah, si esce proprio fuori a esplorare Sì Ma la luce serve a qualcosa, no, non è che ne faccia Ah, Steph, aiuto! Che 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 cos'è? Aiuto, mi ha ucciso Cos'era? Cos'era? Era un lupo mannaro Ero convinto, fosse un player, ha iniziato a pugliarmi alle spalle Non riesco neanche a parlare, stavo a prendere le scarpe Dobbiamo stare più attenti, Fere Ma sei pazzo? Steph, sta roba no C'è ancora? Oh mio Dio, Steph sta coltellandoli, so che? È un lupo mannaro, avevo ragione io Però si è incastrato lì Ok, siamo sopravvissuti, grazie Non è vero, sono morta Infatti non mi ha messo tre sopravvissuti Vabbè, continuiamo prossimo round Non promette bene, Steph Cioè, i primi due livelli non mi sono piaciuti per niente Io voglio incontrare granni Voglio la nonnina C'era un po' fortissimo, fosse un player Adesso mi mette a sentire Spam, pam Sonics Già È quello che penso? The floor is ready Are you? Lo vedi? È di fronte a noi Oh, oh No, 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 no Vai via, vai via, vai via Ce l'ha con te È fortissimo Io mi licenzio, Steph Non ce la posso fare Mi uccidono sempre Non so più che accidenti devo fare Oh, cap Stai fermo Non venire nell'ascensore Dai, raga Era appena rientrato io Scappo, scappo Era appena rientrato Non lo puoi evitare Ma come dovresti fare? Ok Che siamo pazzi Adesso? Fere, Fere, Fere C'è gente appesa nell'ascensore Fere, cos'è questo coso? Salto Non so chi sia C'è troppo buio Che cavolo è? Come fai essere viva? Perché sto correndo intorno Come fai? Ok L'ho fregato, l'ho fregato Sta prendendo altri player Non me li portare addosso Fere, sei tornato Bravissima Basta, Steph Amico, te ne vai? Voglio sopravvivere un turno Ti prego Ce l'ho fatta Questa ce l'ho fatta Molto triste Fere, ce l'ho fatta Io mi metto qua Comunque il vero mostro è sto player Cosa? Il vero mostro è questo player Cioè, è orribile C'ha le scarpe che sono tre volte sui piedi Di faccia Sembra quello dei pirati dei Caraibi Sono l'enigmista, Steph Davvero? Gigsaw Quindi ci tortura? Senti, è quella musichetta? Sì Queste sono le persone che torturerà E noi come ci possiamo passare? Perché tanto ogni volta qualcosa compare su di noi Oh Ecco, è qui, è qui, è qui, è qui È quello? Sì Non ti avvicinare, Steph, che ti uccide? Non sta facendo nulla lui per ora Eccolo, è impazzito Oh cavolo Ok È un po' pagato Però va bene Meglio, 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 meglio Facciamolo perdere Ok Cosa ti ha preso? Non lo so Mi ha perso lo scare jump Con la sua faccione enorme E sono morta Perché? Ma perché mi sono sempre male? Ero lontanissima da lui, Steph Lui era lì E io ero nell'altra parte della stanza Perché mi hai preso? Perché? Che cosa ti ho fatto di male? Steph, lei mi sa che tu ero lontana I watches No eyes Lui guarda ma non ha gli occhi Chi è? Ma che cavolo ne so Andiamo? Ti prego La lascia di Bambina No È Slenderman È Slenderman No, Steph No, 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 no Cos'è sta canzoncina? Ti prego, 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 ti prego Lasciami Con la torcia lui scappa Sì, credici Proprio Lo vedo come scappa Lasciami pace Lasciami pace Slender per Slender Non ti voglio Ma sto facendo addosso Steph Ma totalmente La musichetta era fantastica Ce l'hai fatta Ma in basse Quando muore Steph Ho buttato Steph come esca L'ho tenuto io Quanto l'ho tenuto tutto il tempo io Tutto Salvata per quello Steph Perché ho usato te come esca Vedi questo è un buon piano Questo è un buon piano Comunque bisogna rampicarsi così ogni tanto Secondo me E' buono per sopravvivere Quindi la camera da letto E quindi Ok Una normale camera da letto Ah ok E' questa tizia che ce n'è a tv Ok Non so come si chiama Non ho idea Fede Sono comparsa le macchie di sangue La senti la risata? Che cosa brutta? Credo che stia saltando lì nella lampada Sì E la faccia col coltello Guardala Lo vedo lo vedo No Che cavolo è sto coso? Chi è? Non lo so ma è impazzito C'ha del fuoco addosso Ma perché alcuni player sono velocissimi? Perché probabilmente shoppano Fere Ah Shoppiamo anche noi Allora Non portarmelo qua ti prego Grande 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 Vai Continua a correre Sei il migliore Forza Forza Siamo persone Forza È rischiato di morire Facci vivere Tu che hai shoppato Sei tutti noi Bravo Shoppano ancora per tutti noi Comunque non è sto pazzo con le fiamme Non so chi sia oltre tutto C'è cattivissimo Sì Ma finisce Ok Oh cavolo Ha impilato gente nella sua casa Fere è un tipo un macellaio C'ha il macette L'ho appena visto Se non ci arrampichiamo Qua siamo fregati eh No una motosega Steph Ah meglio Hai visto che mi sono arrampicato qua sopra? No È un ottimo punto Vieni Come hai fatto? Fere Fere ce l'è vicino eh Fere Ecco l'è andato Non mi sta seguendo vero Fere sta a saltare Io sto facendo il giro della casa Finché non mi lascia in pace Steph No 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 Ma cavolo si salta Corri Steph È terrible Corri C'ha fatto Steph E' rimorto eh Se non fosse finito il livello Staresti morto Steph Ma tutta la vita è rimorto Che paura cavolo Che paura Aveva rischiato Sì Tu specialmente Io specialmente Io ho iniziato a correre Scuola In tutta la casa E me ne sono fregata E scuola dove questo rebaldi Vediamo Magari c'è Baldi No Non fate partire Ste musichette Mi prego Non piace a nessuno Ah Pensavo fosse questo scheletro Ma no Fede Quello non è Freddy Se Se Tecnicamente è Freddy Non so perché No Non gli seguirà me Non gli seguirà me Io mi sono nascosto Mi ha ucciso Ti ha ucciso? Mi ha ucciso Maledetto Io mi sono nascosto Perché gli altri Corrono veloci Lo dovrebbero tenere lontano lui Dove si scioppa la velocità Guarda io sto facendo amicizia con lui Guarda Fede È il mio nuovo amico Ah ok Sono felice per te Dov'è la velocità? Yes Ce l'ha fatta Bene c'è Jason Oh mamma mia Sì Camp Crystal Lake Quindi è Jason Eccolo Oh cavolo ma quanto corre? No 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 È un pazzo Qualcuno che corre allontani Mi prego È un pazzo raga Guarda come pugnala È fortissimo Grazie che me lo porti addosso È certo Quelli che corrono Se li portano sopra addosso Grazie Volevo proprio schiattare la Jason Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Volevo proprio schiattare con Jason È fortissimo È troppo veloce È troppo Non ho mai visto uno così forte Come puoi fare? Hanno fatto Jason Che è il più forte di tutti Ci sta Assolutamente sì Ce lo merita Comunque raga Siamo qua Abbiamo fatto altri dieci minuti Senza commentare Cercando granni Continua a non comparire Noi siamo tristissimi Vogliamo granni Però almeno Jason L'abbiamo trovato È già qualcosa È già un passo Vediamo che ci mancherebbe Poi di altro Ah in che bello Bello Di bendy Queste bendy In che demending machine Non l'abbiamo mai portato nel canale Però è una figata Guardate Tutto a tema Bellissimo Occhio che arriva Steffa è gigante Davvero? È difficile da schivare Enorme E dov'è? Non lo so Sarà in giro Cosa vuol dire Sarà in giro? Dov'è? Non mi piace come cosa Io prima l'ho visto È enorme È stato difficilissimo Da schivare Infatti poi mi ha preso Perché uno me l'ha portato addosso Lo vedi? No Nel corridoio No perché sono salito qua sopra Per non farmi prendere Sta arrivando? Oh mio dio Ok gigante Eh se ne è andato Dai bene Ok Tutto a posto Bella sta location Bella Allora Il prossimo O è granni O è granni Ci siamo 25 minuti O compara adesso O granni non funziona Ma poi molti li abbiamo ripetuti Un botto di volte Non abbiamo impratto Manco hit Eh ma perché non mi fai Infatti quelli diversi Anziché farmi ripetere Sempre gli stessi O funziona adesso O funziona adesso Dateci granni Dateci Gra Di nuovo Cioè mi prende in giro? Ma sei rotto Mi prende in giro Eh vedi che non funziona bene È rotto Sono sempre gli stessi Vabbè ragazzi Fermiamo così per questo video Qua sotto compariranno Altri video Ci dispiace Non aver trovato granni Ero troppo curioso Di vederla La nonettina Tutta pesante Che ci seguiva Però davvero carina Abbiamo visto un sacco Di roba figa Comunque Abbiamo missato Soltanto granni E hit Di quelli che conosciamo noi Eh sì Comunque la mappa È davvero carina Quindi vi consigliamo Di giocarla Si chiama tipo The scary elevator Se ricordo bene O The nightmare elevator Non lo so Elevator più qualcosa Di tenebroso Raga Quindi dovete trovare facilmente Iscriviti al canale Cliccate a capire Se non guardate